e allora vi do il benvenuto e condivido subito in chat il link a un file di excel che è il file di lavoro di oggi e lo aprite provate il file con le istruzioni e poi i contenuti che ci servono allora nel file viene spiegato cosa facciamo oggi e quali sono i vari passaggi per farlo e quindi lo avete sempre davanti e potete in caso di dubbio rileggere comunque si tratta soprattutto di scegliere uno dei file elencati nella colonna a quindi art exp 01 è uno dei file che abbiamo predisposto si mette a fianco nella colonna b il proprio nome dopo alessandra vi fa vedere comunque come si fa e a quel punto quello è il file che voi vi siete prenotati per lavorare durante la working hour e lo scaricate e lo importate in zotero in una cartella magari che predisponete l'occasione working hour carlo revelli e da zotero avete già installato zotcat aprite quick statement e non importa e importati i dati in quick statement e a quel punto fate direttamente nel passaggio finale cioè direttamente sui dati caricati su liquidata fate i controlli d'accordo e la label e la descrizione in italiano tendenzialmente va in inglese l'autore viene caricato sotto forma di stringa e va tolto l'autore stringa e va collegato l'autore come proprietà di 50 se per caso si tratta di un autore non presente va creato potrebbe esserci un co autore magari potrebbe non essere e altra operazione da fare in generale è pubblicato in che significa pubblicato magari in una rivista oppure per la seconda parte dei file elencati in questo elenco di excel e la seconda parte riguarda sezioni di libri quindi potrebbe esserci la monografia la quale revelli ha scritto un capitolo che non è già stata inserita quindi per caso ovviamente ma inserita anche la monografia quindi lavoro la parte finale diventa più lungo e si corregge la stringa del titolo la proprietà pi 14 76 sostituendo la lingua che sarà caricata come identificata con la lingua italiana che normalmente la lingua di documenti bene questo punto io passo la parola a alessandra che vi fa vedere da una dimostrazione di come si fa e vi soprattutto vi fa iscrivere alla dashboard si allora vi condivido lo schermo allora prima di tutto vi condivido il link nella dashboard che scusate ho incollato male nella chat non riesco a incollarlo allora nella chat del nella chat di zoom ho incollato il link a la dashboard che come sapete abbiamo già visto in un altro nostro incontro è uno strumento che ci permette di monitorare i vari le varie attività i vari editing che vengono fatte durante le working hour quindi a partire da quel link che vi ho incollato che l'ultimo quello funzionante diciamo diciamo vi chiediamo di registrarvi qui nella nella dashboard così da poter monitorare tutte le modifiche che effettua effettua effettuerete durante quest'ora di lavoro chiedo anche a camillo e a tania se ho incollato correttamente il link giusto per avere una conferma perché inizialmente non riuscivo incollarlo perfetto quindi a partire da dai link dove semplicemente registrarvi e appunto tutti i vostri le vostre modifiche e le vostre attività saranno registrate nella dashboard già in un'altra working hour avevamo usato la dashboard ma in questo caso chiedo le persone che avevano partecipato anche le working hour precedenti di registrarsi comunque in questa perché è una dashboard nuova che abbiamo creato per monitorare meglio e per distinguere soprattutto le attività della working hour dall'editaton quindi prima il primo passaggio diciamo registrarsi il nella nella dashboard la nostra attività di la nostra attività pratica invece parterà partire appunto da questo file che Carlo vi ha condiviso nella chat di di zoom nella quale abbiamo inserito sia una piccola spiegazione sulle attività da fare che ora appunto vi mostrerò più nel dettaglio ora parte questa piccola sezione relativa appunto a una spiegazione come vedete nelle nelle righe sottostanti abbiamo eh dei nomi delle etichette che sono relativa dei file RIS eh che abbiamo preparato per la working hour a cui voi dovete associare il proprio nome per far sì che appunto questo file venga usato solamente da voi non da altre persone quindi in questo caso io scrivo il mio nome per indicare che questo file è in lavorazione viene sarà lavorato appunto da me eh ogni file eh contiene due citazioni che come detto Carlo sono riferite a eh lavori eh sono riferite a eh lavori a lavori a lavori di Carlo Rivelli eh a cui sono dedicate numerose mh attività quest'anno come voi sapete i primi file quelli che sono nominati con art exp01 exp01 si eh sono relativi ad articoli eh pubblicati da Carlo Rivelli mentre nella eh nelle righe successive a partire dalla riga eh 54 abbiamo dei file nominati sets exp01 che invece sono relativi a sezioni, ovvero a capitoli di libri, quindi in questo caso potete anche scegliere il materiale che preferite lavorare. Sia i file relativi agli articoli che relativi ai capitoli di libri contengono due riferimenti bibliografici di Carlo Revelli. In questo caso dunque dopo aver registrato il mio nome a fianco al file che voglio lavorare, apro attraverso questo link, una cartella dove sono elencati tutti i file RIS con nomina, con il nome appunto relativo e nel quale appunto ci sono delle citazioni appunto di Revelli. Io mi sono registrata per l'artexp01, quindi scaricherò il file artexp01 che è quello che appunto andrò a lavorare. Qui faccio scarica e salvo il file nel mio computer. Trattandosi di un file in RIS ovviamente devo lavorarlo attraverso Zotero, secondo appunto quella modalità che abbiamo visto anche la volta scorsa all'interno delle nostre appunto della presentazione e che ora appunto rivedremo passo per passo. L'importazione la volta precedente non vi abbiamo fatto vedere con Carlo come funziona l'importazione ma appunto lo vedremo in questo momento. Io qui ho nel mio computer un file RIS scaricato, ripeto, da questa apposita cartella su Drive che andrò a caricare in Zotero. Ovviamente qui Zotero mi propone diversi tipologie di import, appunto dei file tra cui il Bibitex e il RIS oppure degli import da Mendeley che è un altro sistema di gestione delle reference bibliografiche, dei riferimenti bibliografici che assomiglia a Zotero ma che comunque è un software diverso che non garantisce l'import in Wikidat che per questo noi non abbiamo usato nelle nostre dimostrazioni. Ovviamente io seleziono il file perché ho un file RIS da importare e procedo. Qui mi viene chiesto di scegliere il file e io scelgo il file RIS dalla mia cartella. Ora in questo caso Zotero mi permette di creare direttamente all'interno del mio sistema una nuova collezione con i riferimenti bibliografici presenti all'interno di questo file. Cosa significa? Che se non ho una cartella apposita in cui caricare questo file Zotero me ne crea una automaticamente. Se invece ho già una cartella diciamo pronta per l'importazione posso anche deselezionare questa spunta. Io ora la seleziono perché non ho ancora preparato una cartella per la gestione di questi file e quindi seleziono inserisce collezione di elementi in una nuova collezione e vado avanti. Qui l'import è completo e termino. Ora queste sono le mie due citazioni di Carlo Rivelli. Come vi abbiamo detto la volta scorsa ovviamente è bene controllare sia la qualità della citazione quindi in questo caso vedere verificare che ci siano tutti i dati diciamo minimi qualitativi richiesti per una corretta creazione in Wikidata quindi trattandosi di un articolo in una rivista devono esserci tutti i dati relativi al volume all'anno e alle pagine ovviamente. E in secondo luogo devo ovviamente ovviamente verificare in Wikidata che questi due riferimenti, queste due citazioni non siano già presenti in Wikidata come item. Quindi io parto dei titoli, apro Wikidata e faccio una ricerca. Ora la ricerca non mi dà nessun risultato quindi in questo caso questo articolo di Rivelli non è presente in Wikidata e posso importarlo. Devo fare la verifica anche per la seconda per il secondo citazione e anche qui incollo il titolo in Wikidata e faccio una ricerca. Non è presente in Wikidata neanche questa seconda citazione posso procedere con l'import all'interno di Wikidata tramite Quick Statement. Ora io mi interrompo un attimo perché vedo che ci sono delle domande. Non so se Camillo ci hai già pensato tu oppure se volete intervenire per fare delle domande ora. Allora dicono che per il file di Excel la condivisione non fa scrivere e questa è la domanda. più che altro. Ho appena modificato i diritti. Adesso provo a rimettere il link. Fate questo. io aspetto un attimo. Ok funziona adesso funziona benissimo. Ok. Allora riprendo. Bene quindi siamo arrivati alla verifica degli articoli in Wikidata. Abbiamo detto che questi articoli non sono presenti in Wikidata e possiamo procedere con l'import in Wikidata attraverso Quick Statement. Ovviamente bisogna aprire una finestra che appunto bisogna aprire effettivamente lo strumento Quick Statement e ovviamente loggarsi all'interno di Quick Statement. Quindi io accedo a Quick Statement, do tutte le autorizzazioni necessarie e appunto posso aprire quello strumento. Per caricare le mie citazioni ovviamente vi ricordo che bisogna aver installato preventivamente Zotkat all'interno del proprio computer e vi abbiamo fornito la volta scorsa dei video oppositi per l'installazione di Zotkat che diciamo non è banalissimo diciamo da effettuare. Dunque speriamo che abbiate tutti installato Zotkat ma in caso potete rivedere i video per l'installazione. In questo caso io ho dato per scontato che Zotero abbia già l'estensione Zotkat installato. Per effettuare il caricamento tramite Quick Statement semplicemente devo selezionare il nuovo batch e a partire dal mio Zotero seleziono entrambi gli articoli e li sposto dentro Quick Statement. In questo caso ho appunto tutta una serie di dati relativi ai miei articoli associati alle varie proprietà di Wikidata. Quindi ho già un'idea dei dati che saranno importati all'interno di Wikidata. Quindi ho i due item corrispondenti ai due articoli di Carlo Rivelli che appunto verranno creati come dice il termine stesso di Quick Statement e seleziono importacomandi csvv1. Nuovamente Quick Statement mi fornisce un riepilogo dei dati in questo caso molto più chiaro da capire rispetto a prima e faccio avvia. Bene. Qua questa barra mi dà la misura che ovviamente il mio import è andato a buon fine e dunque i miei item sono stati effettivamente caricati all'interno di Wikidata. Qual è il passaggio successivo? Devo verificare che i dati importati siano effettivamente corretti perché ricordiamo che l'import tramite Quick Statement in alcuni casi è un po' carente nel senso che alcuni dati o non vengono inseriti o comunque non vengono inseriti in maniera propriamente corretta. Quindi io apro il primo item che è appunto l'ordinamento delle schede nel catalogo per autori e devo compiere determinate azioni per migliorare questi item appena creati. Noi vi abbiamo inserito già nel file tutte le azioni che dovete fare all'interno di questi item ma adesso vi faccio un riepilogo. Sicuramente vanno inserite le etichette e anche la descrizione anche in italiano perché Quick Statement effettua l'inserimento delle etichette e della descrizione solamente in inglese. Quindi in questo caso io ricopio il titolo nella lingua italiana e poi inserisco una descrizione anche in italiano. Quindi articolo pubblicato su Accademia e Biblioteche d'Italia nel 1960. E questa è la prima azione che va fatta nel momento in cui appunto miglioriamo tutti quegli item importati da Quick Statement. Il secondo è la modifica del titolo. Nello specifico quando viene creato un elemento da Quick Statement e viene creata la stringa titolo ovviamente il sistema non è in grado di capire qual è la lingua associata a questo a questo dato e quindi mette lingua imprecisata. Io qui devo cambiare con ITA, IT italiano e pubblicare le modifiche. Vedo che ci sono molti messaggi. Volete che mi fermi? Avete delle domande? Il terzo elemento da modificare invece è il nome dell'autore. Questo perché Quick Statement non crea una relazione tra l'autore Carlo Revelli ma semplicemente inserisce una stringa che appunto è dichiarato nella proprietà stringa del nome dell'autore. Noi in questo caso dobbiamo invece inserire la specifica proprietà che esplicita il legame con l'autore che è più precisamente la proprietà P50. P50, autore. E' effettuare una ricerca in Wikidata per capire se questo autore è già presente. Ovviamente Carlo Revelli è già presente in Wikidata e quindi semplicemente devo selezionare il mio Carlo Revelli che è bibliotecario italiano e creare il collegamento. Ovviamente non è detto che in questo caso trattandosi della bibliografia di Carlo Revelli la maggior parte degli articoli sono riferiti a Carlo Revelli ma in presenza per esempio di un coautore è possibile che il secondo coautore oltre a Carlo Revelli non sia presente in Wikidata. In questo caso bisognerà crearlo appositamente e poi solo successivamente alla creazione dell'autore formulare questa relazione. Ovviamente qui posso cancellare l'elemento, la stringa del nome dell'autore. Ecco ovviamente per l'autore posso anche aggiungere un qualificatore, ovvero il numero d'ordine è associato a questo autore, cioè posso indicare se l'autore è un autore primario oppure no. In questo caso io metto 1 perché Carlo Revelli è l'unico autore di questo articolo e quindi il numero d'ordine è 1 ovviamente. Un altro controllo che deve essere assolutamente fatto è quello, non un controllo, l'elemento che è un elemento che sicuramente va inserito perché Quick Statement non lo crea è invece il legame con la rivista oppure nel caso di un capitolo di un libro il collegamento o con la rivista o appunto con il libro in cui è contenuto il capitolo. Quindi in questo caso non trovo proprio nessun elemento, neanche una stringa riferita alla rivista perché Quick Statement non fa l'import di quel determinato dato e devo ovviamente tornare sul mio Zotero per vedere qual è la rivista legata al collegato, a cui è collegato il mio articolo che è Accademia e Biblioteche d'Italia. Quindi qui devo aggiungere una dichiarazione che è pubblicato in, tra l'altro Wikidata mi suggerisce automaticamente questa proprietà, è cercare Accademia e Biblioteche d'Italia che è già presente all'interno di Wikidata. Il discorso è lo stesso per l'autore, nel momento in cui io non trovo la rivista all'interno della di Wikidata devo andare a crearla e successivamente creare anche il legame. E qua selezionare pubblica. In questo caso ho tutta una serie di dati correttamente inseriti che ovviamente in buona parte sono stati appunto importati da Quick Statement ma che poi io devo andare a arricchire e a migliorare. Ovviamente poi devo compiere la stessa attività anche per il secondo per il secondo item che è stato creato. Quindi sempre l'inserimento dell'etichetta e della descrizione in italiano, la modifica del titolo e dell'autore e l'inserimento della rivista in cui l'articolo è stato pubblicato. Bene, noi quindi ora potete diciamo lavorare liberamente sui file per qualunque domanda. Ecco, intervenite anche liberamente. Mi pare che la spiegazione sia chiara, quindi forse stanno già lavorando. Nessuno fa domande. Poi possiamo aggiungere un titolo informativo che questa attività è stata pensata in collaborazione col gruppo AIB relativo appunto alla catalogazione che ci ha supportato nella redazione anche della bibliografia di Rivelli che è molto consistente anche da un punto di vista numerico. E Carlo, credo che qualcuno tenti di parlare. Non so se... Ah no, scusate. Forse anche io ho sentito un rumore fuoricampo, ma non so se... Allora, abbiamo quale tasto uso per caricare il file in Zotero. Allora, vi faccio vedere nuovamente. In Zotero, proprio aprendo Zotero, da file, abbiamo qua importa e poi c'è tutta la procedura guidata per l'import. Qui bisogna selezionare il file, importare il file e, diciamo, chiudere l'import. È abbastanza semplice l'import su... L'import dei file è abbastanza semplice in Zotero. Nel momento in cui siano dei file ben strutturati come il RIS o il Bibtext è molto semplice, ecco. Questa è abbastanza semplice. No, ecco Carlo, ti chiedevo conferma su una cosa, che la bibliografia di Revelli forse verrà messa anche in disposizione su Zenodo, se non sbaglio. Sì, l'idea è quella di impacchettarla e pubblicarla su Zenodo, è un sito in cui si possono pubblicare dati di varia natura, tra cui anche i dati bibliografici, per esempio di un autore o di una monografia, come abbiamo fatto recentemente per quella in onore di Mauro Guerrini. Forse era Davide che voleva parlare. Riprovo, si sente? Sì. Ok, scusate. Provo ad avvicinare, ho la webcam abbastanza terrificante. Niente, arrivando all'incontro, riflettevo su questo, ovvero abbiamo visto che Zotero ci fa da DOI Resolver e ora stiamo praticamente cercando di immettere tutto il materiale di un determinato autore. Ho provato a cercare online, ma non ho trovato un modo per recuperare tutti i DOI di un determinato autore. Esiste il metodo? Ho provato su Mera, anche una ricerca di metadati interni del DOI, ma non ha dato i risultati che pensavo mi venissero fuori. Davide, esiste solo se qualcuno l'ha creata. Per esempio, per il caso di Carlo Revelli, è proprio grazie al lavoro di Lucia Sardo e altri due temerari volontari, cioè Alessandra e Andrea Machitelli, che è stata creata la biografia che oggi abbiamo a disposizione per fare questa esercitazione, ma è stata creata a mano perché non c'erano i DOI e non c'è un luogo in cui al momento esista, si raccolga tutta la biografia di un autore. Anzi, il primo posto probabilmente inizierà a essere richiedata. Ma per esempio su un autore che comincia domani a scrivere su J-List? Sì, se l'autore scrive sempre pubblicando con DOI, sì, in teoria l'autore potrebbe fornire la propria bibliografia dando semplicemente i DOI invece che la bibliografia vera e propria, quella che usiamo a fare oggi, insomma. Da oggi in poi, da oggi in avanti. Qui ovviamente siamo andati molto indietro, a meno del 160, quindi c'è di tutto di più. E questo vale, Davide, anche per le riviste. Anche le riviste, la stessa rivista addirittura può essere strutturata nel corso del tempo con servizi bibliografici di tipo diverso. Cioè nulli all'inizio, fai conto che, se non vado errato, Alessandra, correggimi, il bollettino AIB in alcune parti è stato pubblicato, diciamo, è stato pubblicato in una forma avanzata. In una parte intermedia ci sono gli articoli, ma non i dati. Nella prima parte addirittura ci sono i PDF del fascicolo. Interi, sì. Interi, quindi si deve scaricare un PDF di un intero fascicolo per avere un articolo. Quindi, diciamo, la situazione è in evoluzione. Si va verso il meglio, ma al momento, a meno che io sappia, repository in cui trovare i prodotti di un autore non ci sono. C'è un'eccezione, che sono i repository delle università. Le università si stanno strutturando per far vedere, per esempio, attraverso la piattaforma Iris, tutti i prodotti di un ricercatore, ma questo presuppone che sia stato il ricercatore stesso a mettere dentro i dati e a quel punto si possono scaricare anche, per esempio, in formato RIS, in formato VIP, eccetera, su quell'autore. Però, appunto, comunque si tratta di autori accademici, quindi una parte relativa, comunque, della produzione. Sì, in seconda battuta, dicevo che io sto facendo sta prova qua, ovvero mi sono scaricato tre file dalla cartella, li ho caricati assieme, e poi, invece di buttarli direttamente su Quick Statements, sono su Notepad++ e sto pulendo preventivamente il coso. C'è un altro software che magari sia un po' meno, diciamo, rancido, cioè è fantastico Notepad++, però non mi sembra che stia facendo quello che mi immagino. C'era la possibilità di fare anche una correzione intermedia, cioè nei due passaggi che si fanno su Quick Statement, uno dei due consente di fare degli editing di questo tipo, per esempio, sostituire Undetermined con Italiano, eccetera. Però abbiamo, per ragioni così di working hour, preferito fare direttamente il lavoro tutto su Wikidata, così si faceva in un blocco solo e si faceva un controllo generale alla fine del caricamento. Quindi facendo tutte le cose che ha fatto vedere Alessandra. Sì, probabilmente ce ne sono anche altri. Un altro passaggio che si potrebbe fare è quello di OpenRefine. Anche lì si può lavorare, diciamo così, offline e poi caricare. Però oggi abbiamo pensato che forse questa è la procedura. Ma in linea teorica, lo stesso elemento che ho su Zotero, lo posso importare in OpenRefine? Sì. Sì, allora l'importazione in OpenRefine non funziona benissimo per tutti i formati che Zotero consente di scaricare, perché noi abbiamo fatto delle prove. Ce ne sono alcuni che funzionano meglio di altri. Però sì, a partire da uno scarico di Zotero è possibile importare dei file in OpenRefine. Noi non abbiamo ancora proposto delle attività con OpenRefine, perché sono un po' più complesse. Perché OpenRefine è uno strumento molto potente, però che ha anche tante funzioni. Quindi ci sembrava forse un po' prematuro presentare ancora qualcosa con OpenRefine. Parlavo solo in via teorica. Sì, sì, no, è assolutamente possibile. Anzi, io personalmente preferisco OpenRefine. Noi abbiamo fatto tanti caricamenti con OpenRefine. Sì, abbiamo lavorato più con OpenRefine che con Zotero. Ma OpenRefine lo faremo, solo che facciamo un pezzo per volta per non spaventare nessuno. Quindi adesso che siete impratichiti con Wikidata, con Zotero, con gli elementi bibliografici, forse è anche giunto il momento di fare, di usare OpenRefine. Ma ci vorrà un po' di tempo. Basterà un incontro di un'ora probabilmente per riuscire a imparare a usare bene OpenRefine. Ci vorrà un po' più tempo. Non vedo l'ora. Ma anche noi, perché alla fine si lavorano meglio. Però, insomma, ci vuole un po' di pazienza. Lo faremo senz'altro. No. 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 Grazie a tutti. 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 Perché hai meno possesso dei dati. Per esempio, non funziona il trascinamento che abbiamo visto, dallo spazio di Zotero allo spazio di Quick Statement. Proprio perché i dati non sono residenti sul tuo PC, ma sono sulla cloud e quindi non c'è questa funzione di trascinamento che in realtà è un salvataggio nella memoria tampone del computer. Quindi questo, per esempio, è un limite che abbiamo dovuto tenere presente per questo incontro. La domanda è molto sciocca. No, chiede sempre Quick Statement di autoconfirmarsi e dovete autoconfirmarsi. praticamente dovete loggarvi di nuovo e autorizzare un modulo che si chiama O-out a fare le modifiche per voi. In questo modo si sa che siete stati voi a fare quelle modifiche, quei caricamenti e le cose vengono anche registrate sulla dashboard eventualmente. Allora, in Wikidata, dunque, Ivano, bisogna trascinare i dati da Zotero a Quick Statement, che è una finestra di dialogo con Wikidata. Ecco qua. Quindi bisogna aprire questo. Forse è meglio mettere il link. Ok. Dopo che loggate in Quick Statement, dovete fare il nuovo batch. E poi qua trascinate, poi io non li carico ovviamente, trascinate i due articoli qua dentro. Non si è visto tanto? Ok. Non li ha trascinati. Eccoli qua. Dovete semplicemente, diciamo, aprire le due finestre. Una di Quick Statement è quella di Zotero e trascinare i dati da Zotero dentro questo di quadro, ecco. E poi avviare l'import. Sara ci l'ha fatta, mi pare l'aveva capito. Ok. E Ivano ha scritto che gli mancava il passaggio di Quick Statement, quindi adesso che gliel'hai fatto vedere, poi non posso. Ok. Grazie. 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 Carlo, sulla domanda prima di Susanna, sulla differenza del Zotero Web, volevo solamente aggiungere, che adesso non ricordo se l'hai detto, che su Zotero Web, diciamo, la parte più che altro più utile è quella di poter usare delle cartelle condivise con altre persone, che è il vero vantaggio di avere la versione web, diciamo, che permette meno azioni. Anche in Zotero Standalone si può usare, c'è la possibilità comunque di condividere le cartelle. Sì, però io personalmente lo trovo più semplice. Sì, sì, si sincronizzano. Ecco, si sincronizzano con Zotero Web, hai ragione. Sì, è vero, anche se poi questa funzione è un po' un tranello delle volte, perché poi non puoi cancellare quella cartella, se non la cancellano anche gli altri, cosa del genere, non la puoi svuotare. Noi l'abbiamo fatto con delle tirocinanti, però poi abbiamo abbandonato questo metodo, perché altrimenti avevamo poi Zotero sempre impallato, pieno, perché avevamo le loro bibliografie e non potevamo cancellarle dal nostro. Ah, vedi Tania, vedi l'esperienza. Magari Sara puoi condividere lo schermo, così vediamo un attimo dove è il problema. Bisogna autorizzarlo. Eccomi, sono qua, grazie. Allora, un attimo, condivido? Sì, sì. Ok. Allora, abbasso qua, aspettate che stavo facendo, ah, c'ho troppe cose aperte. Dunque, stavo, 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 stavo. Qui, eccomi da questo. Ma stai condividendo? Sì. Perché noi non vediamo, io non vedo. Aspetta, aspetta, vi ho il mio video, da qua. Ecco. Lo vedete? Adesso vediamo te. E però non vedete, non vedete il video condiviso? E sotto, nella barra, doveva esserci condividi lo schermo in verde adesso. Sì, infatti l'ho fatto, ma abbiate pazienza. Allora, condividi lo schermo in verde, ok, ok. Mi chiede che schermo condividere? Ma non vedo io cosa mi chiede. Questo lo vedete? Io non vedo che mi chiede che schermo condividere, sinceramente. Non ancora. No, non... Vedo? Allora, lo rifaccio. L'organizzatore ha disabilitato la condivisione dello schermo partecipante. Aspetta, facciamo una cosa. Forse tu, io l'ho abilitata e te, Alessandra. Sì, no, adesso abilito anche Sara come coorganizzatore. Andando siamo tutti qua. Sì, fai così. Adesso, prova di nuovo. Vado, eh. Ecco, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ah, eccolo. Allora, condividi. Ecco, mi dà... Perfetto. Ok, mi dà questo. Ok. Io faccio... Quindi, io sono loggata, perché, eccomi... Sì. Quindi, se faccio un nuovo batch... Sì. Mi dice, you can't create questo qua. Because you are not auto-confirmed. Prova a fare quello sotto, invece di quello lì. No, 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 quello ho capito, perché l'utente deve avere almeno, mi pare, 50 modifiche, adesso controllo, se no non può usare Quick Statements. Ecco, ma allora io proprio non sono. Sono una novellina. Ah, quindi... Non posso lavorarci. È una misura che si è fatta per evitare che ci fossero problemi con... Allora, Sara, ti passo io un articolo da finire. L'ho caricato io e te lo passo da finire. Allora, ti passo il numero così poi tu lo puoi completare come abbiamo visto. Cioè, lo cerco su Vicky, da... Allora, ti passo il numero qui, guarda. Allora, intanto termino... La condivisione me l'avete tolta, perfetto. Me l'avete messo nella chat? No, io lo vedo ancora, il tuo schermo. Allora, interrompo la condivisione, ecco. Esatto, adesso è a posto. Ne usciamo via. Nella chat ti ho messo il numero dell'articolo, ok? Sì. Poi ti dico anche il titolo, è la catalogazione per soggetti nell'Europa orientale. Ok. Tu fai quello e io invece faccio i due per cui ti hai risegnato, va bene? Ok. Intanto inizia a fare le modifiche e quando arrivi a 50 ti funzionerà. Va bene, grazie. Ma questo non me lo ricordavo. 50 modifiche e 4 giorni di registrazione. Ok. E abbiamo anche un'altra persona, infatti, che ha lo stesso problema. Allora possiamo caricargli di noi e dopo gli passiamo il numero? Sì, infatti anch'io adesso mi prendo un altro file. Grazie. 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 Ok. Ok. Allora c'è una nuova domanda di Susanna, incolato da Zottero in quick statement non riconosce i campi e fa un'unica riga per ogni record. Condividi, vediamo cosa succede. Perché così non riesco a capire. Riprova adesso perché ti ho abilitato. Ok. Ivano ti metto in chat, quindi un cu da lavorare. Ok. 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 Anche Cecilia ha bisogno di... Hai importato qualcosa? Sì, sì, infatti li stavo scrivendo adesso. Mi ero fermata un attimo. Eccoli qua. Allora, uno è questo e l'altro è questo qui. Grazie. Allora. 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 Allora Claudio mi ha fatto notare una cosa che forse non so se tu Carlo le neri conoscenza in pratica in uno dei nostri file RIS c'è un articolo che ha un titolo troppo lungo quindi Quick Statement non glielo fa importare non glielo fa importare non glielo fa importare non mi ero mai accorto Sì in realtà anche se provi a crearlo manualmente non ti fa caricare la label nel senso non ti fa creare l'elemento perché nella creazione dell'item non devi superare la label di 250 caratteri almeno questo è l'errore che mi dà per il momento E scusa una volta creato eventualmente si può aggiustare oppure rimane comunque il limite di 250? Sia su label sia su descrizione e alias tutti sono limitati a 250 caratteri l'uno che si può aggiungere la label di 250 caratteri l'elemento che si può aggiungere la label di 250 caratteri l'elemento quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, esiste il bollettino di informazioni associazione italiana biblioteche? Potrebbe essere questo, bollettino di informazioni. Esatto, allora era sciolto. Scusate. Anche io ho trovato prima un articolo e l'ho messo a bollettino AIB, non a questo, adesso correggo, che non avevo cercato correttamente. Ok, va aggiunto l'alias. Subito. Grazie a tutti. 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 problemi me lo chiedi benissimo e e e e e e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scusate, sono sulla recensione di Donald Edward Davidson, Periodicals e Manual. Il titolo viene importato come titolo in italiano, ma di fatto è in inglese. Però in realtà è il titolo della recensione che si chiama così. Quindi in questo caso metto in italiano o metto in inglese? E rimane il titolo in italiano e il titolo in inglese è uguale, nel senso che il titolo della recensione è la descrizione del libro. Il libro, avendo i metodati in inglese, in italiano si vede in inglese, insomma. Sì, sì, no, è che il campo, diciamo, P1476, titolo, che richiede poi di specificare la lingua. Italiano. In questo caso qua è in italiano perché si riferisce all'articolo pubblicato. Perché poi l'articolo sarà in italiano. Giusto, giusto, giusto. Scusate, invece io la recensione, quella che mi ha girato prima, giustamente, devo mettere, quando faccio, quando creo l'istanza, istanza di recensione, mi chiede recensione di, che cosa metto? Perché non avendo sotto il, io qui ho ombre. Ti chiede anche, allora, come istanza, P31 scrivi che è una recensione. Ok, recensione. Sia un articolo di scientifico che una recensione. E poi la recensione di andrebbe collegata con il Q della cosa recensita. Che però al momento non esiste. Quindi o la crei o non fai la, non puoi creare la proprietà. Non la faccio la proprietà. Però allora non dico che è una recensione? No, puoi dire che è una recensione. No, quello si può. Metti P31, aggiungi un altro valore, e metti Q26, 51, 58. Ok, ok. Io ho risposto anche a Elena. P31, mi ha detto? Sì, P31, un nuovo proprietà, P31, e poi 26, 51, 58. Q26, 51, 58. Recensione. Io ho finito la batteria, ho ufficialmente finito la batteria del computer, quindi mi sto per lasciare. Ah, vi lascio in buone mani perché c'è Alessandra. E Camillo. E Camillo. E Tania, quindi c'è una batteria di persone qua. Passa l'organizzazione, se no finisce che si termina la riunione. No, l'ho passata già, la riunione è iniziata ufficialmente condotta da Alessandra. Quindi, io vi lascio allora. E vi saluto. Ci vediamo domani. Arrivederci, grazie. Arrivederci, buon lavoro a tutti. Ciao Carlo. Susanna chiede se dove può trovare Zotcat per Linux. Io non lo uso, quindi non so se magari Claudio... Niente, su GitHub bisogna prendere il file JavaScript e caricarlo nella cartella Translators, che è nella cartella Mozilla. Questo, grosso modo, sulle distribuzioni Linux più diffuse, Ubuntu, Linux Mint, questi qua. È un po' contorto, ma più o meno funziona così. Purtroppo non c'è un tutorial già fatto. No, non c'è un tutorial già fatto. Grazie a tutti. 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 Ovviamente noi come al solito lasciamo a disposizione tutti i materiali, quindi se volete continuare avete tutto liberamente accessibile anche nei prossimi giorni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi abbiamo delle query con molti risultati pronte per essere attaccate da chi ne abbia voglia. E di conseguenza questo è il link dell'evento di domani che è stato già anche mandato sui social vari e vi invitiamo a partecipare numerosi. E poi alle 17 abbiamo un incontro abbastanza colloquiale su dubbi, domande, suggerimenti eccetera. Abbiamo anche il gruppo su telegram, quindi se volete scriverci durante la giornata ci siamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io interrompo anche la registrazione. Grazie a tutti.